Il turismo delle radici è una grande opportunità soprattutto per i borghi e i piccoli centri e da Bolsena lanciamo questo grande appello alle istituzioni, alle imprese, ai singoli comuni perché si occupano di questo turismo che significa accogliere nei nostri territori gli oriundi italiani o gli oriundi di alcune regioni. Ci sono persone che hanno i bisnonni nati in una parte d'Italia ma non sono mai state nella terra dei loro avi e questo ancora di più persone che dagli Stati Uniti, dalla Germania, dal Sud America, dall'Australia vogliono riscoprire le proprie radici. Ecco il turismo delle radici. È una grande opportunità soprattutto per la campagna contro lo spopolamento dei piccoli centri. Io sono anni e anni che insisto su questo. Fin da quando ero giovane deputato ho insistito perché i trasferimenti dello Stato e i comuni non fossero solo in base alla popolazione ma anche in base alla superficie perché un piccolo comune che si è spopolato ma deve tutelare un grande territorio soprattutto dal rischio di sesso idrogeologico va aiutato. Oggi il turismo delle radici e le attività di turismo sostenibile possono essere di aiuto ai piccoli centri. Quindi lavoriamo subito e il governo agisca già con un sistema di detassazione di tutti gli investimenti che si fanno in questi piccoli centri.